Ci siamo, eh? Carmelo Valenti, la signora, sua moglie, la piccola, la vostra meravigliosa figlia e qui insieme a tanti amici, ospiti e invitati per l'apertura dell'atelier Uomo. Un altro sogno che si realizza per la vostra famiglia, per il vostro lavoro. Sì, sì Marco, un sogno dedicato a tutti gli sposi perché è l'unico atelier da Uomo per Siracusa e provincia. Un posto magico, è veramente dedicato solo all'uomo. Come ha detto Carmelo, come ha confermato Tina, è l'unico spazio dedicato interamente agli uomini, alla loro classe, alla loro eleganza e la scelta dei brand è davvero esclusiva. Il taglio del nastro è arrivato finalmente, quindi Valenti Uomo diventa realtà. Prego. Auguri, auguri, auguri. Guarda c'è un maestro con la sua sciabola. Abbiamo, prego, abbiamo una sciabolata da riprendere e poi entriamo all'interno dell'atelier. Siamo a Siracusa, siamo sul corso, corso Umberto numero 95. Un brindisi per voi e per la vostra famiglia. Auguri ancora! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!